Le faccio un esempio, questa politica verso il mezzogiorno ha bisogno anche di recuperare credibilità e di recuperare fiducia. Ci sono delle cose che sono state fatte, faccio un esempio, il grande progetto Pompei, nessuno ci credeva, e invece con i fondi europei è stato realizzato, è stata sistemata quell'area, adesso dobbiamo sistemare l'area limitata per la basso del zone. Ci sono delle cose che si possono fare, e insomma una cosa che forse abbiamo avuto proprio modo di parlarne qui, magari qualche tempo fa, cioè investire il sud quando investi, a differenza di quello che ci hanno raccontato per anni, non è vero che non risponde, reagisce, reagisce persino meglio di altri territori perché ha più sé.